E' interessante questo ritorno della Suzuki MotoGP perché la Suzuki era uscita dalla MotoGP nel 2011 e quindi il fatto di rientrare è un ottimo segnale su quello che è l'utilità delle corse e la necessità per le aziende di partecipare alle competizioni, alle gare. Suzuki ha come obiettivo quello di promuovere il proprio brand, il proprio marchio, di rafforzarlo e soprattutto anche di avvicinarsi un po' di più al pubblico. In effetti in questi anni è venuto un po' a mancare la vicinanza di Suzuki, magari gli sportivi parlano meno di Suzuki, si sono interessati meno al nostro marchio e quindi con questa operazione vogliamo riavvicinarci a loro, ai tifosi, agli appassionati di moto e promuovere il marchio e speriamo di poterlo fare al meglio. Poi alla fine diciamo che la promozione migliore arriverà dai risultati e questa è la parte più difficile.